domenica 21 novembre ariete a sdrammatizzare un malinteso di coppia bastino abbattuto uno scherzo segno evidente che il problema non è così tragico come lo dipingete emozioni ed esperienze condivise fungono da collante avete tante cose in comune perfino difetti e virtù toro cercherete compensazioni attraverso lo shopping l'idea non è malvagia ma occorre stabilire in anticipo il budget e saperlo rispettare i giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia gemelli disinvolta e chiacchierona la luna in transito nel vostro segno promette incontri occasioni e contatti a cuo serenità su tutti i fronti un pizzico di dispersività va messo in conto fa parte del vostro personaggio poliedrico e leggero cancro a lui o lei volete un bene dell'anima ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato vi smonta insinuando nella vostra mente dubbi ed interrogativi a preoccuparvi non è l'ipotesi di un terzo incomodo ma i dubbi sulla compatibilità dei vostri caratteri leone siate scaltri l'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano una forte dove non arrivate con le vostre sole forze una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi vergine lunatici non per carattere ma per condizioni planetarie le zone più colpite famiglia e coppia nebbia e pioggerella che tolgono la visuale nervosi e irritabili in casa qualsiasi cosa vi venga richiesta la fate di malavoglia e protestando bilancia il trigono luna giove entrambi in segno d'aria come il vostro è una vera panacea per il vostro umore euforia ottimismo e serenità nei rapporti utilizzate profumazioni fresche e leggere adatte al segno l'essenza al muschio verde o bianco scorpione in aspetto armonico a plutone e dissonante a giove mercurio nel segno risveglia in voi l'amore per il mistero e il desiderio di risolvere enigmi avete il vantaggio di saper vedere il quadro nel suo insieme senza per questo trascurarne i dettagli sagittario confusione emotiva innescata da luna e nettuno indispensabile per il partner armarsi di santa pazienza per far fronte ai vostri sbalzi d'umore frizzanti e propositivi gli amici che avete intorno aprendo alle loro iniziative vi ricaricate anche voi capricorno suggerimenti da un amico che sa leggere le carte oggi vi affidate al linguaggio simbolico del suo antico mazzo di tarocchi sarà sorprendente vi sentite pronti a mettervi in gioco sicuri di poter fare affidamento sulle vostre doti e sulla buona sorte acquario felice con la luna in trigono al vostro inquilino giove che vi sorride benevolo protetti dal suo raggio celeste vi sentite invulnerabili parlate degli altri come se fossero tutti amici sulla stessa lunghizza d'onda ma non sempre così pesci chiacchiere e belle notizie da un amico lontano magari fiocca anche un invito per le prossime feste esattamente quello che stavate pensando in questa domenica però trascorrerete più tempo a fantasticare rispetto a quanto riusciate a realizzare grazie 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 grazie